Eccolo qua. Della verità ce l'avete tutti quanti a casa, vero? Se non c'avete questo, c'avete il bimbi, sicuro proprio. Quindi l'impasto con la mano, ricordate un quarto d'ora, 20 minuti a fare così, non lo facciamo più. Oggi vi faccio vedere come si fa l'impasto per la pizza, che potete fare la pizza fritta, potete fare la pizza al forno, potete fare la pizza in teglia. Quattro cose ci vogliono, quattro, come i Gold de Napoli, quattro. Quattro, vedete? Farina, acqua, lievito di birro e sale. La ricetta di oggi prevede un minimo di un mezzo chilo di farina, a cui andremo ad aggiungere un 300 grammi di acqua, 3 grammi di lievito e 15 grammi di sale. Vi faccio vedere, guardate che bello che sta qua, perché questa fa tutto lei. Iniziamo con la farina. Vedete? Una volta che abbiamo messo tutti, mezzo chilo nostro di farina, andate. Ecco, qua sta qui. Questa volta un po' dentro, facciamo girare un po'. Allora, non ci tagliamo. Altrimenti così, piano piano, vedete? A modo alla volta. Ma che ci mettiamo? Ci mettiamo questo, vedete? Ci mettiamo il lievito. Mi domandate perché prima il lievito, prima l'acqua, io lo faccio così, ci metto il lievito. Vedete? Guardate? Una volta ci abbiamo messo il lievito, aggiungiamo l'acqua ancora una volta. Ecco qua. E la facciamo lavorare un po'. Questa non è una ricetta per i professionisti. Questa è una ricetta per mia zia a casa che ha da fare la pizza fritta belle e buone i figli. Il sabato sera, mamma, voglio la pizza. Questa è la ricetta per quell'impiegata che torna da casa e si vuole divertire un po'. Per i professionisti, i ragazzi vogliono sapere cose un po' più particolari, un po' più, diciamo così, che fanno parte del messaggio. E se contattatemi in privato, mi rispondono tranquillamente. Nel frattempo, come potete vedere, aumentiamo un po' di più la velocità. Questo deve lavorare al massimo di 5 minuti. Qua, come vedete, da oggi, vedete? Guardate. Sto lavorando dopo, ammassiamo un poco. Io non ce l'ho messa tutta l'acqua, ma la sono conservata un po' poco d'acqua. Così si va, si mette in uscita un 70% di apple all'inizio e un 20-30% si conserva, perché alla fine bisogna mettere l'impasto con la nostra apple. Quando l'impasto inizierà ad assumere la consistenza sua, ci andiamo ad aggiungere i 15 gr di sale, in questo modo qua, e il restante dell'acqua. Quindi l'acqua ci va a tirare l'impasto e ci fa sciogliere quel sale. Quindi lo abbiamo visto alla fine. E lo facciamo lavorare per le decine di sale. Trascorsi 10 minuti, tiriamo fuori l'impasto, in questo modo qua. Guardate. Fariniamo un po' del patto, in questo modo qua. Io l'ho fatto fare con 30 ml d'acqua, semplicemente perché così abbiamo un impasto che abbia una densità un po' più corposa, e quindi abbiamo una manipolazione più facile per voi, che non siete professionisti del mestiere. Quindi, a volte ottenuto una cosa del genere, la lavoriamo un po', in questo modo qua. Allora, con queste quantità che vi ho dato per fare l'impasto, questo è un impasto che va benissimo e che segue benissimo la tradizione di quella che è la pizzeria napoletana. Nel senso che vanno bene le torsi, dobbiamo fare un impasto che facciamo la sera e ci serve a pranzo del giorno dopo, o che facciamo al mattino e ci serve per fare le pizze a cena la sera a casa. Una volta ottenuto questo, mettiamo una bella recipiente capiente, in modo tale che abbia la capienza di contenere il doppio della massa che noi andiamo a mettere dentro. Lo copriamo con una pellicola e lo teniamo a temperatura ambiente per almeno 6-7 ore. Dopodiché si possono fare le pizze. Se lo dobbiamo tenere più di 6-7 ore per una questione di nostre esigenze e nostre personali, allora lo andiamo a porre nel fritorifero e tirarlo fuori 5-6 ore prima di quanto ci serve. Quell'impasto, una volta che ha levitato, lo abbiamo diviso in panetti a seconda di quello che dovete fare. Io in questo caso adesso vi vado a preparare dei calzoncini fritti, dei ripieni piccoli così, quindi abbiamo preparato dei panetti da 150 grammi ognuno. Se voi dovete preparare una pizza in teglia, allora vi tagliate la metà di quell'impasto, lo stendete in una teglia e poi la preparate e la condite come vi piace a voi. Ecco fatto. Quanto ho ottenuto questi panetti di questa consistenza, li andiamo a stendere e a condire a piacimento nostro. Io oggi ve ne preparerò uno con scarole napoletane e provola, scarole fatte con pinoli, uvetta, olive nere, capperi, un altro fatto con ricotta e cicoli. Una cosa che volevo dire, quando dovete friggere a casa e volete sapere se l'olio è pronto per friggere o meno, come fate? Gli do dentro il termometro, non ce l'avete? Allora, un piccolo segreto, pigliate un pizzico così, vedete? Il pane grattugiato e lo spruzzate in questo modo nella pentola della frittura. Guardate, il pane grattugiato inizia a friggere dopodiché si raccolta tutto quanto insieme, vedete? Guardate? E che significa che la frittura, il nostro olio ha raggiunto la temperatura perfetta per poter friggere le nostre pizzette. Eccola qua, adesso andiamo a preparare una, in questo modo qua. Volete anche che vi insegni come fare a ristendere una pizza a un metodo napoletano? No, quello è il patrimonio dell'UNESCO. Eccola qua, la pizza fritta non va spesa del tutto, va lasciata un po' più alta e facciamo questa qua con le scarole, vedete? Immaginate di avere la pizza a metà, quindi il condimento ci andrà solo sulla parte davanti, vedete? le nostre scarole e ci mettiamo qua. La nostra parola in questo modo qua. Guardate? Vedete? Dopodiché la andiamo a chiudere avendo l'accortenza di far combaciare i lembri, vedete? i lembri devono combaciare tutti quanti insieme. Si chiude prima quello davanti, poi si chiude con questi due laterali e poi qua. Dopodiché si fa in questo modo. Si fa di timbro. Eccolo qua. Vedete? E il nostro cuimo di pieno è pronto. Facciamo un'op. Immaginate che ci avete questo panetto davanti, va bene? Immaginate una cosa. Dividetelo a metà nella vostra immaginazione, in questo modo qua. Stendete con le punte delle dita l'impasto a partire da questa metà fino ad arrivare ad un dito di spazio del cornicione. Dopodiché girate, fate la stessa cosa nell'altra metà. Vedete? Poi lo guidate di qua, lo rimettete di nuovo come stava prima. E guardate che già la vostra pizza ha iniziato ad avere una consistenza uguale in tutte le sue fasi. Poi lo faccio lentamente. Se ci riuscite a farlo proprio da casa, basta tenere questa mano firma. Con questa spingete sopra e poi girate. Vedete? Guardate. Ok? Basta così. Poi ci andiamo a mettere... E andiamo a fare un altro con la ricotta. Un po' di ricotta fresca. Vedete? Andiamo a stendere in questo modo qua. Ci mettiamo due cipoli. In questo modo qua. Un po' di pomodoro. Ci sta un po' di basilico. Io ce lo metto un pino a capazzo o basilico. Un po' di pepe. E lo andiamo a chiudere nello stesso modo. Vedete? Prima di qua. Poi qua. Poi qua. Così. Lo giriamo. Ok? Vi piacciono? Adesso. Adesso nello friggere. È croncato. Vedete? Uno. Uno. Un po'. Ci vediamo. Quasi pronti. Riparatevi un po' di carta. Per far assorbire l'olio in eccesso. Un po' di carta da cucina. In questo modo qua. Intanto diamo un occhiato. Allora. Sta andando una regalita. Inceriamo un po'. Ecco. Guardate come si gonfiano. Come sono belle. Se a vostro figlio gli viene uno sfizio. Mamma fai due calzoncini fritti. Oppure avete degli amici con i quali potete fare una bella figura. Avete visto quando ci abbiamo messo? Cinque minuti. Niente di particolare. Secondo me. Ecco qua. Guarda che bello va. Spettacolato. Questo lo possiamo provanzare. Scusatemi, il tavolo da lavoro è un po' più... Ecco. Stai dentro. Ci tagliamo? Voglio vedere che esce dentro? Iniziamo da questo. L'ho schiacciato un po'. Eh? Sto attento a non schiacciarlo perché mi piace proprio vedere che... la città è un po' più. E' 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 un po' più.